Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Cane Coppia, Davide, Chiara, Cianne, benvenuti in un nuovo vlog, guardate qua il mio amore Ciao! Allora ragazzi, stiamo andando a ritirare la spesa di Hyperdrive, cosa comoda, ottima Sì, veramente, ci siamo trovati bene, abbiamo fatto un primo esperimento, tra virgolette E ci siamo trovati benissimo Con una spesa da 30-40 euro Una spesa proprio sostanziosa, diciamo No, però rispetto a essere lunga si portano a casa più cose e ci siamo trovati bene Non c'erano la passata, ci hanno chiesto se si dovrebbero morti con i sostitutivi, io avevo messo il no E quindi hanno tolto dal pagamento appunto che abbiamo fatto online la cifra, quindi ottimo E funziona così in tutti i supermercati L'articolo sostitutivo, se voi lo volete, lo guardate Lo prendete Mettete il no, ma tanto a chi già fa queste cose non sto a spiegare nulla di nuovo, lo sapete già E quindi io assolutamente articoli sostitutivi non li voglio perché se io voglio una cosa voglio quella Ecco Allora ho notato che da Hyper i prezzi sono identici, ci sono un sacco di sconti Da essere lunga invece alzano di qualche centesimo le cose, questo non mi piace Però la comodità dell'essere lunga che te la porta proprio a casa Certo, però, aspetta, abbiamo fatto l'essere lunga un po' più grossa, ma io ho fatto Hyperdrive Perché ti dà proprio l'opzione Hyperdrive Ma questo non lo sapevo ragazzi Se la vedete, dobbiamo provare, lo proviamo tutti Conad, anche perché c'è proprio uno che è Everly, ti fa tutti i supermercati Sì, quello sì E te la porta a casa E lì, ah, tra l'altro mi sembrava di aver visto che si può fare anche se è lunga E ci sono prezzi reali, ce l'ha scritto Comunque vedrete tutto Vedremo, insomma, è tutto un esperimento E poi vedrete appunto la spesa che abbiamo fatto Mi farò vedere i prodotti, sarà un piccolo video spesa, diciamo, fatto, inserito nel vlog Così almeno riduciamo al minimo, essenziale, le cose della spesa E così, anche perché comunque l'hyper è enorme, immenso e c'è troppa gente Mentre sì, ok, l'essere lunga ci puoi anche andare perché è solo essere lunga Però, ragazzi, se si può evitare, evitiamo Infatti, meglio così Ragazzi, è arrivata lì per dry, tac Come potete vedere non c'è nessuno Ci sono due persone, tac Adesso entro, ritiro, carico in macchina e ce ne andiamo, tac Bene, ragazzi, appena rientrati, cambiati, lavati e quant'altro Adesso mi metto a igienizzare la spesa e poi vi faccio vedere quello che abbiamo preso Bene, finalmente spesa igienizzata E adesso andiamo a mostrare tutti i bei prodotti Siete pronti? Andiamo, partiamo? Allora, carta igienica compatta e salvaspazio 24 rotoli, due veli, 4320 strappi Marca Iper Questa qua in casa serve sempre Abbiamo preso anche questa, ragazzi Quattro veli Cioè, quattro rotoli Sono marca Foxy L'abbiamo presa perché questa è un'offerta E così almeno siamo a posto per un po' con la carta igienica Andiamo avanti Prezzo conveniente questo, ragazzi Poi, ragazzi, qua abbiamo due barattoli di salsa passata mutti Che è la migliore Perché ne abbiamo Ma abbiamo voluto fare scorta di altre due Perché mia moglie farà la pasta al forno No, le lasagne Perdonatemi Farà le lasagne Perché avevamo deciso di riprendere la dieta Effettivamente da lunedì, ragazzi Anche queste qua le hanno offerte Allora abbiamo deciso di prenderle Due Smacchia tutto Se mia moglie ne ha presi due Perché anche questi Erano in offerta Perché se no Vabbè che questi sono quelli piccoli Sono 250 ml Però penso che ne abbia Ne abbia presi il punto due Perché costavano poco Erano in offerta Ragazzi, sempre dalla marca Iper Abbiamo preso quattro confezioni di panna da cucina Perché mia moglie farà Più avanti Pasta, panna, piselli e prosciutto Perché oggi ho visto l'occorrente Quindi qua sono al top e allo iè, ragazzi Formidabile Anche qua due confezioni di formaggio camoscio d'oro Ripeto, camoscio d'oro No, niente Vabbè comunque Secondo me quando vedete i due prodotti uguali Perché sono in offerta Perché camoscio d'oro Come dico Costicchia Prendendone due Perché veramente era conveniente I mancabili salviettini igienizzanti Marca Citrosile Questo qua è per disinfettare qualsiasi cosa Specialmente la spesa Della marca Valerata Una scamorza affumicata Che anch'essa è buona Non ho capito perché dico anch'essa Comunque buonissima Poi ragazzi abbiamo preso Le sottilette classiche Molto buone Molto buone Super cremosi Gli ne voglio fare un toast Come vi ripetevo Pasta pane e pizza di prosciutto Infatti della marca Iper Il prosciutto cotto a cubetti Due vaschettine Per mangiare proprio la bontà Poi abbiamo preso Della Galbani Santa Lucia Fette di mozzarella Queste ragazzi sono squisitissime Le abbiamo già provate Sono veramente buonissime Che ve lo dico a fare Poi abbiamo preso queste qua Elemental Franchise Non so se ho detto bene la pronuncia Comunque anche questo qua va bene Per una piadina Per un panino farcito E quant'altro Poi appunto Prodotto marca Iper Piselli finissimi Sul gelato 450 grammi appunto Per fare la ricettina Poi per le pelosette Abbiamo preso Altre quattro scatolette In bus Altre quattro buste Di gourmet Che a loro piacciono molto Filet in salsa Con pollo Perle Queste sono perle di saggezza Che emanano le nostre gattine Poi Perché riviziamo A loro piacciono anche queste Sempre gourmet Con tacchino Con pollo Anatra Vanno pazzi anche di queste Vanno ghiotte Ragazzi Poi abbiamo preso Della cameo Pizza regina alta Impasto alto E soffice Margherita Molto buona Poi abbiamo preso Questa pizza Ital Pizza 26x38 Farcita in Italia Con amore 5 formaggi Adoro Perché 5 formaggi Non 4 formaggi Voglio vedere quanti sono Ragazzi Veramente Qui c'è scritto 5 formaggi Di solito Non è 4 formaggi Sì Comunque Forna a legna Questa è stata cotta a legna Svelatemi Perché c'è scritto 5 formaggi Non 4 formaggi Per favore Poi una confezione Di pane Più cioccolato Che l'ultima volta Mia moglie L'aveva presi Ma io Che sono uscito Dalla dieta Ma mi devo riprendere E ho fatto la strage Poi come ultimo prodotto Ragazzi Della spesa Fatta da Iper Iperdrive Lenore XXL Fiore di ciliegio Chissà che profumazione buona Fiore di ciliegio E niente ragazzi La spesa Termina qua Comunque Comunque Ve lo dico Ragazzi Fare la spesa Online Andare solamente A ritirarla E' una cosa Bellissima Perché tu Non devi entrare Al supermercato Girare tutte le corsie Andare per Sembrano Viali Per me Perché io odio Fare la spesa Nei supermercati E' una cosa ottima E' un esperimento Che ci stiamo Trovando Veramente bene E che ve lo dico A fare Domani arrivo A quella dell'essi lunga Allora Ci sono C'è un pro E un contro L'essi lunga Arriva quando Ti da la sponibilità L'essi lunga Invece farla così Che vai solamente A ritirarla Che loro Praticamente Te la mettono Tutta nei sacchetti Già chiusi Già nel carrello E' una cosa buona Perché non c'è Cioè le fasce orarie Ci sono A qualsiasi orario Del giorno Finchè non chiude Del centro commerciale Quindi se voi La fate anche Che non so Ne siete in ufficio Alle 6 di sera Potete andare A ritirare benissimo Anche alle 9 di sera Che Veramente è una cosa Questa Per me Eccezionale Quindi Provate anche voi A fare Questo esperimento Se vi trovate bene Se non vi trovate bene Poi ritornate voi Io così sono felice Sono al top Allo year Ragazzi Ragazzi Piccola premessa Mia moglie mi ha detto Che quella pizza lì Ha 5 formaggi Mentre le altre Ne hanno 4 Non lo so Però mi ha detto così Bene amici Che dirvi Io spero che Questo vlog Vi sia piaciuto Vi abbia intrattenuto Vi abbia tenuto compagnia Spero che abbiate Preso spunto Dei prodotti Che vi ho mostrato Ragazzi Una piccolezza E se vi interessa L'essere lunga Al prezzo di 1 euro Vendono Due mascherine FFP2 E ce ne sono Proprio tantissime Quindi se a qualcuno Interessa Prendere la mascherina FFP2 Andate all'essere lunga Che con 1 euro Ne prendete due Ragazzi Secondo me È una cosa buonissima Questa Ragazzi Io vi saluto Vi auguro Buon sabato sera Un bacione a tutti Il solito IEA E Ciao Ciao